Ultimamente mi sono imbattuto in molti commenti che mi chiedevano la mia opinione sui trading bot. Così ho fatto svariate ricerche e mi sono informato bene. Ci sono piattaforme che non solo forniscono segnali per la price action, ma rendono automatizzato tutto il processo di trading. Operando su mercato azionario, forex oppure criptovalute, grazie a delle funzioni impressionanti, il bot riesce ad aprire posizioni e chiuderle, generando succosi profitti. Basta decidere il titolo su cui vogliamo effettuare le nostre operazioni e il software sceglierà determinati parametri che possiamo cambiare a nostro piacimento, come take profit e stop loss. Siamo davanti al sogno di ogni investitore, guadagnare senza fare nulla. Incuriosito da questa modalità di trading, ho cercato quali fossero le piattaforme migliori e mi sono imbattuto subito in Bits Gap, piattaforma di automazione del trading all-in-one per Bitcoin e altre criptovalute. L'ho provato per un paio di giorni e oggi voglio portarvi risultati. Vi assicuro che non sono per niente male essendo passati solo pochi giorni da quando il bot lavora. Inoltre se vi iscriverete con il link in descrizione potrete usufruire gratuitamente della versione Pro, di cui parleremo tra poco. Ciao, io sono Alessandro e in questo nuovo video parleremo di trading automatico di criptovalute e più in particolare di Bits Gap, la piattaforma che consente di farlo e che sembra la migliore di tutte. Mi hanno chiesto molti iscritti di farci un video in merito così mi sono informato accuratamente ed eccomi qui. Voglio ricordare che io non sono un consulente finanziario e per questo non voglio essere responsabile dei vostri investimenti. Ogni investimento comporta il rischio di perdita, il mercato si dipinge di verde ma anche di rosso. Come funziona Bits Gap? Bits Gap si pone un obiettivo fondamentale, rendere più semplice e intuitivo il mondo del trading. I fondatori hanno voluto dare vita ad una piattaforma accessibile a chiunque, dai principianti fino ai trader più esperti. Questa idea ha acquisito molto successo, tanto da raccogliere recensioni positive da importanti testate giornalistiche. Bits Gap offre una vastissima gamma di exchange, che possiamo collegare. Tra i più conosciuti troviamo Binance, Kucoin, Coinbase e tanti altri. Per collegare gli exchange basterà utilizzare la chiave API, ma questo lo vedremo tra poco. Prima voglio chiarire con voi un concetto fondamentale, ovvero come funziona il bot. Questo bot prende il nome di grid bot, oppure bot a griglia, e riesce ad aprire e chiudere posizioni in un range di prezzo definito, ma che possiamo cambiare a nostro piacimento. Sul grafico vediamo una griglia molto fitta, dove ogni linea separa una zona di prezzo dall'altra. È qui che entra in gioco l'incredibile intelligenza del software. Infatti il bot, sfruttando le varie oscillazioni di prezzo che intercorrono da un momento all'altro, chiude la posizione non appena è in profitto. E voi direte, ma facendo così il profitto è irrisorio. È qui che viene il bello, perché il bot di Bitsgap riesce a concludere anche 50 operazioni in un'ora, traguardo irraggiungibile per un uomo. Il suo potere non deriva dal fatto di riuscire a fare grandi profitti in poche operazioni, ma di chiudere una marea di posizioni in poco tempo. Se il prezzo raggiunge una zona di prezzo, il bot compra e poi rivende ad un prezzo più alto. È bene notare un concetto fondamentale. Il bot riesce a lavorare meglio quando siamo in un periodo di lateralizzazione, in cui le cripto accumulano per poi risalire. Quando siamo in un trend rialzista oppure ribassista, il bot non porta a casa buone performance. In una run, per esempio, il bot vede il prezzo principalmente alzarsi. Non sono presenti le oscillazioni che troviamo in una fase di lateralizzazione. Per questo, il momento migliore è utilizzarlo nei periodi laterali, che nel mondo cripto si verificano con molta frequenza. Adesso che abbiamo dato un'introduzione, direi di entrare più nei dettagli e analizzare la piattaforma. Questa è la schermata che vi apparirà appena cliccherete il link qui sotto in descrizione, che vi ricordo vi darà 7 giorni di prova gratuita nella versione pro. E arrivati qui dobbiamo premere su sign up. Premendo su sign up io accedo subito, a voi chiederà di mettere le mail e la password, voi le inserrete e sarete subito dentro all'applicazione. Qui abbiamo subito la schermata di TradingView. Infatti abbiamo tutti gli strumenti, quindi possiamo fare le nostre analisi. Questa è la griglia di cui vi parlavo prima, dove il bot riesce a vendere e acquistare, seguendo gli ordini di acquisto e di vendita. Qui a destra troviamo le coppie che stanno performando meglio, infatti ci dà una panoramica generale. Infatti cliccando su una di queste coppie ci dirà qual è il prezzo massimo, il prezzo minimo e come possiamo agire. E' molto interessante anche la funzione di backtest. Infatti possiamo controllare quali sono stati i rendimenti passati, digitando un intervallo di date. Scorrendo qui sotto troviamo le coppie che ho aperto precedentemente. Sono passati pochi giorni da quando le ho aperte e ne ho aperte due, con 20.000 dollari in totale e mi stanno fruttando 81 dollari e 85 dollari. Comunque le ho aperte da pochi giorni, quindi non state a guardare il profitto che non è altissimo. Ma quello che è interessante notare è l'intelligenza artificiale del bot, che riesce a svolgere tantissime operazioni in poco tempo. Infatti il bot prima deve un attimo studiare come agire e poi dopo facendo le sue accurate analisi venderà e comprerà. Infatti i pallini rossi e i pallini verdi sono tutte le operazioni che il bot ha svolto in questo tempo. Ovviamente non ho investito 20.000 dollari direttamente, ho utilizzato il conto demo che si attiva qua sopra perché voglio un attimo vedere come funziona il bot, studiarmelo e poi penso che ci investirò perché mi sta piacendo veramente tanto. Adesso usciamo un attimo dal conto demo che vi voglio far vedere come collegare la chiave API. Qui infatti vi dirà non hai exchange collegati, collega almeno un exchange. Ci chiederà l'exchange e la chiave API e la chiave segreta. Se non sapete come collegare la chiave API e la script key, qua c'è scritto come connettersi. Cliccate sopra e vi darà un'indicazione generale con tutti i passaggi che dovrete seguire, è molto semplice. Se comunque riscontrate problemi scrivetemi sotto in descrizione e vi rispondo subito. Detto ciò andiamo a dare un'occhiata ai piani che offre BitsGap. Allora il piano gratuito c'è, però non si può utilizzare con denaro reale, è un piano che serve soltanto per provare il bot, quindi soltanto con denaro virtuale, non possiamo investirci denaro reale. Io vi consiglio di utilizzarlo per vedere se il bot vi porta profitti e se vi trovate bene. Questi sono i piani a pagamento, Basic, Advanced e Pro. Innanzitutto c'è una differenza perché possiamo pagare ogni 6 mesi e ogni mese. Pagando ogni 6 mesi risparmiamo il 17%. Il piano Basic prevede due trading bot attivi, il bot a griglia e ordini smart. Il limite di scambi è di 25.000 dollari. Poi abbiamo il piano Advanced che oltre alle caratteristiche che sono state citate in precedenza ha la funzione trailing, ovvero quando il prezzo esce dalla griglia del bot viene stoppata un attimo l'operazione, quindi il bot aspetterà che il prezzo rientri nella griglia decisa in precedenza. Qui inoltre abbiamo la funzione di arbitraggio, ovvero possiamo guadagnare dalla differenza di prezzo delle monete nei vari exchange. Per esempio se su Binance Bitcoin è più alto di Qcoin possiamo utilizzare la differenza di prezzo per fare trading e fa tutto in automatico il bot e costa 49 euro al mese. Inoltre nel piano Advanced abbiamo un limite di scambi di 100.000 dollari, possiamo utilizzare 5 bot di trading attivi e abbiamo i bot futures. Infine abbiamo la versione pro che costa 107 euro al mese e vanta tutte le caratteristiche precedenti e un volume di scambi che è illimitato, quindi possiamo fare quante operazioni vogliamo. Inoltre abbiamo 20 bot di trading attivi, una cifra molto alta. In questa versione troviamo tutto ciò che BizGap ha da offrire, quindi abbiamo tutte le caratteristiche possibili e inoltre abbiamo il Take Profit per bot. Questa versione se volete potete utilizzarla per 7 giorni, come vi ho detto in precedenza, semplicemente registrandovi con il link in descrizione. Dopo queste accurate ricerche posso constatare che BizGap sia una piattaforma seria che permette realmente di guadagnare anche mentre si dorme. Infatti l'intelligenza artificiale sta migliorando notevolmente questo mondo, in modo che i meno esperti possano approcciarsi e capirlo meglio. E inoltre ci toglie tanto lavoro e tanta fatica, facendolo fare ad un bot che se ne intende parecchio. Prima di investire su BizGap e sui trading bot, vi invito a fare le vostre accurate ricerche, perché tutti quanti gli investimenti hanno un rischio di perdita. Non esiste un bot che funziona perfettamente e che vi porta sempre un profitto. Mi raccomando, controllate bene, fate le vostre analisi e decidete dove investire. Io terrò queste posizioni aperte ancora, voglio vedere che profitti mi porteranno nel tempo. E vi aggiornerò sulla pagina Instagram, vi lascio qui sotto il link in descrizione così potete seguirla. Detto ciò io spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un mi piace ed iscrivervi per supportare il canale. Un saluto, alla prossima!